eccoci qua oggi ho preso una cosa da provare ovvero un tappetino per la compressione quindi uno di quei tappetini che fanno una sorta di trattamento di agopuntura generalizzato sulla schiena dovrebbe favorire il rilassamento dovrebbe favorire la circolazione favorire rilassamento muscolare alla schiena e anche favorire poi rilassamento in generale quindi contro l'ansia lo stress per migliorare la qualità del sonno io l'ho comprato adesso vorrei provarlo qualche giorno intanto lo testiamo subito vediamo cosa c'è dentro due palline anche per agopressione diciamo molto dure e poi ecco dovrebbe esserci sia la parte per la testa tipo un cuscino vedete a tutti questi spuntoni abbastanza appuntiti devo dire e poi il tappetino per la schiena adesso non so se il cuscino lo userò perché in effetti non lo so sulla testa se sia una buona idea però per la schiena o questo eccolo qua quindi lo andiamo subito a testare poi magari lo proverò per un paio di settimane poi fare un video appunto proprio approfondito a riguardo se funziona che sensazione ho avuto e come si usa intanto vi faccio vedere come ci si sdraia ok adesso vediamo se ci sdraia con o senza maglietta lo testiamo subito si no con la maglietta è un po troppo tranquillo per i miei gusti la testa è in realtà fastidioso ma ho sentito siccome mi è stato consigliato questo tappetino ho sentito che deve essere piuttosto fastidioso quindi ci togliamo la maglietta che allora lo proviamo a petto nudo vediamo che cosa succede allora petto nudo tutta un'altra cosa si sentono proprio gli spuntoni un po come se con uno spilo qualcuno vi toccasse con la maglietta o senza maglietta fa tanta differenza però probabilmente ci si abitua un attimo adesso magari so su dieci minuti e lo testo per la prima volta poi magari ogni farò ogni giorno vediamo una decina di minuti al giorno così vediamo se avrò anche dei benefici sul rilassamento magari dei muscoli della schiena magari sul rilassamento in generale magari su la qualità del sonno vedremo faccio sapere continuando voi continuate questo video io farò un bel taglio ok dieci minuti passati schiena penso rossiccia devo dire che insomma si sente ecco si sente lo sento tuttora un po come se avessi preso una sorta di di scottatura in questo momento alla schiena un po come se avessi preso il sole per ore e non è così male non è così doloroso salvo che un paio di punti forse per la conformazione della mia schiena fossero realmente puntiformi e quindi lo sentissi un po più del dovuto ma per il resto dieci minuti sono fattibili in primo momento di assestamento poi sì io l'ho fatto con le gambe piegate perché con le gambe distese da parte bassa non toccava comunque tocca meno però con le gambe piegate riesco a appiattire tutto un po' meglio braccia lungo i fianchi più o meno poi provato a muoverle un po' però tendenzialmente lungo i fianchi adesso lo proverò per qualche giorno e poi vi farò sapere a presto benissimo allora che conclusioni traiamo dal nostro tappetino per lago pressione allora è passato un po' di tempo da quando ho iniziato ad utilizzarlo all'inizio stato un po' più costante poi meno ma poi mi sono anche fatto aiutare da alcuni pazienti cioè lo facevo provare magari a fine seduta facevo sdraiare per 5 10 15 minuti i pazienti sul tappetino e devo dire che ho avuto un buon riscontro perché tanti mi hanno insomma a parte un piccolo trauma iniziale nello sdraiarsi poi si sono rilassati e hanno anche migliorato i propri sintomi soprattutto per quanto riguarda il mal di schiena le tensioni dorsali meno per quanto riguarda le tensioni cervicali però per chi soffre di dorsalgia e lombalgia sicuramente può essere un ottimo aiuto oltre alla terapia classica ovviamente per quanto riguarda posso dire che sicuramente è un momento in cui ci si rilassa nonostante il dolore si riesce a rilassarsi dopo la circolazione aumenta a livello proprio di tutta la schiena e quindi si ha anche un miglioramento per quanto riguarda proprio la tensione muscolare di medio lungo periodo non so dirvi molto per quanto riguarda altri aspetti che questi tappetini promettono di migliorare per esempio la qualità del sonno sulla qualità del sonno sarà che magari può capitare di fare un viaggio e quindi avere diciamo una situazione diversa di sonno un'abitudine differente su quanto mi ha suonato appena adesso dicevo che per quanto riguarda la qualità del sonno non posso dare un giudizio obiettivo nel senso che sì normalmente dormo bene normalmente ho dormito bene anche in passato ci sono giorni in cui dormo meno bene per diverse cause viaggi e ritorno da viaggi e magari vai a letto tardi per qualche motivo insomma ci sono degli aspetti su cui non posso più di tanto dare o anche sulla riduzione dell'ansia riduzione dello stress diciamo che quello è un po' più complesso come aspetto quello motivo per cui principalmente lo prenderei intanto comunque costa poco poi vi lascio il link in descrizione è quello proprio di del rilassamento in generale psicofisico e del rilassamento muscolare alla parte lombare sicuramente se usato per un lungo periodo è probabile che questo rilassamento che si ottiene in anche di 10-15 minuti di appunto momento sdraiati si rifletterà poi su un minore stato di ansia e di stress generale questo è molto probabile soprattutto poi per chi soffre di ansia e di stress per cui sicuramente riesce a vedere un beneficio maggiore quindi da quel punto di vista ma poi se si è più rilassati meno ansiosi meno stressati si dormirà anche meglio una cosa poi tira l'altra per quanto riguarda la tensione muscolare devo dire che sia io che anche diversi pazienti a cui l'ho fatto provare mi hanno dato un feedback positivo in questo senso quindi mi sento di darvi un feedback positivo anche a voi comunque appunto vi lascio il link in descrizione e così potete darmi anche voi nei commenti un feedback per quanto riguarda questo tappetino c'è anche il cuscino in dotazione non in tutti però alcuni danno anche il cuscino in dotazione a me il cuscino non è piaciuto più di tanto aspetti ve lo prendo eccolo qua cuscino che però non trovo per niente comodo e trovo anche relativamente poco sensato andare sulla testa un po' complicato però volendo si può anche utilizzare il cuscino io ho fatto per la maggior parte delle volte con le gambe piegate appoggiate su una sedia così riesco ad appoggiare meglio tutta la parte lombare anche sul tappetino altrimenti se si hanno le gambe dritte la parte lombare non appoggia bene e risulta più complicato e meno efficace anche non appoggiando la parte lombare che dire lo stile di vita ovviamente richiede tanti aspetti per stare bene l'alimentazione l'attività fisica il bilanciamento con il lavoro e quindi questo tappetino può essere un qualcosa in più non è ovviamente tutto se avete problemi più profondi più importanti rivolgetevi al giusto professionista a seconda del problema che vi affligge questo può essere utilizzato come trattamento parallelo diciamo tanto appunto è abbastanza economico si può fare in qualsiasi momento a casa quando si ha un attimo di tempo ci si mette giù ci si rilassa e funziona ecco grazie per aver visto questo video mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate mi interessa anche il vostro parere e noi ci vediamo in un prossimo video